per provare a far nascere un governo che fosse un governo di cambiamento, quindi trovo davvero singolare gli elettori che stavano in piazza e parlavano di inciucio, il principale responsabile della situazione che si è venuta a determinare si chiama Beppe Grillo, che come ha ricordato gli faccia finire, l'ha ricordato in modo chiaro Cacciari, ha detto la stessa cosa Cacciari Cacciari ha detto l'obiettivo di Grillo, l'obiettivo di Grillo, scusate se poi dobbiamo fare rispondere anche alla platea, rispondiamo anche alla platea, l'obiettivo, ripeto le parole di Cacciari, l'obiettivo di Grillo non era portare in Parlamento delle persone che aiutassero a dare delle risposte l'obiettivo di Grillo era far fare l'accordo al PD e al PDL e lucrare in termini elettorali questo è avvenuto, questo è stato, poi vi va piacere o non piacere, Bersani è stato insultato è inutile che lei sorride caro Travaglio, perché lei sta là Ma lei sta là, lei sta là, lei sta là, lei sta là, lei sta là e sorride Il principale responsabile della situazione che si è venuta a determinare si chiama Beppe Grillo Grazie a tutti